E' arrivato alla seconda edizione il concerto di fine anno per il Calcit nella Pieve di Arezzo con la partecipazione degli studenti del liceo classico musicale Petrarca dell'ensambla vocale del liceo con il professor Michele Lanari. Hanno partecipato anche il maestro Maurizio Pasqui alla tromba, Arianna Galla al violino, Niccolò Emanuele Rossi all'Oboe e Marco Rossi all'organo. Sono rincontri che fanno onore alla città e in questa combinazione di arte e di generosità, questo secondo concerto per il Calcit che davvero è il DNA, il carattere della città di Arezzo quindi è stato un modo molto bello e intelligente per farsi gli auguri. Intanto è un bel modo per chiudere l'anno. Qui bisogna ringraziare Marco Rossi che ha fatto tutto lui. Noi siamo venuti ad assistere a questo spettacolo e vedo che piace, la gente fa piacere assistere a questi spettacoli e ci vediamo per il prossimo anno. Marco Rossi lo sa, ormai è un calendario questo qua e con l'occasione per fare un augurio a tutti i cittadini di Arezzo. Io ringrazio Arezzo perché ho visto la pieve piena, devo essere sincero, la mia soddisfazione è quella. La soddisfazione di un musicista è quella di trasmettere le proprie emozioni che prova suonando. Penso di averlo fatto insieme a mio figlio che ha preso le orme del babbo, anzi spero che vada anche più avanti e grazie anche ai suoi compagni, ai coristi, al professor Lanari, al professor Pasqui, ringrazio tutti. Ringrazio Don Alvaro perché mette sempre questa bellissima chiesa, questo luogo d'incontro a disposizione di Arezzo e degli aretini e di chi vuole fare qualcosa di bene. Ringrazio Don Alvaro perché mette sempre questa bellissima,